Grazie a tutti. La battaglia di Varsavia, cioè la rivolta di Varsavia del 44, quello che molto spesso anche sui giornali si confonde con la prima rivolta di Varsavia, che è del 43, ma che riguarda l'insurrezione del Ghetto, che fece oltre 20.000 morti. Io vi invito a riflettere su un fatto e poi riprendiamo esattamente il discorso dell'incontro. L'8 giugno del 46, seconda guerra mondiale finita, a Londra si celebra il giorno della vittoria, il primo anniversario della vittoria sul nazismo. Ci sono le nazioni che hanno combattuto per sconfiggere Hitler, la Germania e il Terzo Reich. Ci sono nazioni come la Transgiordania, sfido chiunque a ritrovare su una cartina muta dove si trovi la Transgiordania, c'è il Nepal e non c'è la Polonia. Strano, se noi facciamo un discorso puramente razionale, la Polonia è il paese per cui è scoppiata la seconda guerra mondiale, quindi è stato il primo paese ad entrare in guerra, il primo settembre 1939. La Polonia non ha mai firmato né un armistizio né un trattato di pace con la Germania, ma i suoi soldati hanno continuato a combattere in Francia, in Inghilterra e poi dopo lo sbarco in Normandia, in Olanda, hanno combattuto in Africa, hanno combattuto su tutti i fronti, anche in Italia, ci si è arrivato dopo, Monte Cassino, ma perfetto, Monte Cassino è la conseguenza della mancata caduta di Ortona in tempi utili. Perché non c'è la Polonia tra i paesi vincitori? Noi abbiamo i cosiddetti cinque grandi, escludiamo la Cina e un discorso a parte. Ma qualcuno ha mai riflettuto che l'Unione Sovietica dal 1 settembre 1939 al 22 giugno 1941 era alleata del Terzo Reich? Qualcuno ha mai riflettuto che il più grande, il più moderno è considerato il più forte esercito d'Europa e quindi del mondo? Cioè la Francia è stata piegata, annichilita e umiliata in 40 giorni e dopo la sconfitta militare più di metà della Francia ha collaborato attivamente con il Terzo Reich e in alcuni casi ha aperto anche il fuoco contro gli alleati come in Africa. Eppure noi ritroviamo l'Unione Sovietica tra i paesi vincitori, la Francia tra i paesi vincitori, per me questo è ancora un mistero ancora più grande, e non c'è la Polonia. La spiegazione non è né storica né militare ma purtroppo è puramente politica. La Polonia non sfila a Londra nonostante il sacrificio di migliaia e migliaia di soldati polacchi, nonostante il fatto che la Polonia abbia pagato alla Seconda Guerra Mondiale il prezzo della vita di un abitante su sei. Provate a fare questo calcolo. È il paese che ha pagato con più vittime in proporzione alla popolazione della Seconda Guerra Mondiale. Non c'è. Perché? Perché Stalin non vuole. Il mondo è cambiato, gli equilibri si sono spostati, la Polonia è stata tradita dagli alleati verso i quali aveva riposto la sua fiducia, come aveva riposto nel 1939. La Polonia aveva dei patti vincolanti con Francia e Gran Bretagna che non aveva imposto la Polonia. Erano patti sottoscritti liberamente dalla Francia e dalla Gran Bretagna che prevedevano aiuto immediato in caso di attacco non provocato, per, attenzione seguite queste due parole, per garantire l'integrità e l'indipendenza della Polonia. Quindi la Seconda Guerra Mondiale scoppia per garantire l'integrità e l'indipendenza. E si conclude, senza restituire la Polonia, né l'integrità né l'indipendenza. Siamo proprio nel totale paradosso. La causa scatenante porta alla sconfitta di Hitler, ma le premesse non vengono minimamente soddisfatte. Quindi siamo già nel primo elemento che ci deve far seriamente riflettere, come la storia non sia una storiellina delle pappette precotte della scuola. I buoni, i cattivi di qua, di là, succede così perché è successo questo e finisce tutto. Questo è il primo elemento. Quindi la grande ipocrisia morale dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Secondo, 17 giorni dopo l'attacco di Hitler senza dichiarazione di guerra, l'Unione Sovietica di Stalin attacca a sua volta la Polonia il 17 settembre e se ne prende metà. Guardate che non è l'intuito del grande politico o il saper cogliere l'occasione. Tutto quello era scritto nero su bianco nel protocollo segreto del patto Ribbentrop-Molotov, che era un patto di spartizione e quindi, contrariamente, qui l'avvocato può venire in soccorso, a tutti i trattati internazionali fino allora sottoscritti, che erano finalizzati a mantenere la pace oppure erano finalizzati a fare una guerra, pensate alle guerre di indipendenza, trattati di Plombiergo, Napoleone, eccetera, quello è un patto che è finalizzato alla guerra ed è finalizzato alla spartizione di un paese sovrano. Altro elemento, e perché Francia e Inghilterra entrano in guerra il 3 settembre contro Hitler e non il 17, il 18, il 19, il 20 settembre contro Stalin? È una banalità. Ma sui libri di storia queste cose perché non ci sono scritte? Guardate che non è che le ho scoperte io, magari le avessi scoperte io. Nonostante questo quadro, i polacchi continuano a combattere, i polacchi riparano in Romania, transitano come possono fino ad arrivare molto spesso in Italia e poi addirittura in Francia. E qui ci sarebbe una pagina della diplomazia italiana che naturalmente viene sottaciuta perché poi dovrebbe far riscrivere altre pagine di storia. Quanti sanno, è nero su bianco, parlo di documenti diplomatici italiani, quindi non c'è nessuna scoperta eclatante, basta andarle a leggere, che Galeazzo Ciano creò dei consolati volanti e diede ordine a tutte le rappresentanze diplomatiche italiane in Polonia, sia nella parte occupata dai tedeschi, sia in quella occupata dai russi, che l'Italia non riconobbe mai, di rilasciare i visti di ingresso in Italia a chiunque ne facesse richiesta, inciso, compresi gli ebrei. Ora, chiunque ne facesse richiesta, e non fate paragoni con il presente, erano tutti giovani maschi forti che andavano a riarruolarsi in Francia per continuare la guerra contro i tedeschi. Compresi gli ebrei, inutile che faccio sottolineature, perché capite l'importanza di questo inciso e di questa specificazione, perché si capisce chiaramente a cosa porta questo atto che non è certamente in linea con tutti i patti sottoscritti tra il fascismo e il nazismo. Non durerà per molto tempo, ma comunque venne fatto così. La Polonia viene occupata, divisa in due parti, e i polacchi vengono perseguitati di qua e di là. Qualcuno di voi ha visto il film Katin di Andrzej Vaida? C'è una scena che dovrebbe entrare di diritto nella storia del cinema, quando c'è una colonna di profughi che si proietta verso un ponte e a un certo punto vede un'altra colonna di profughi che viene dall'altra parte e dicono dove andate? Ci sono i tedeschi? No, dove andate voi? Qui ci sono i sovietici. Quella è la fotografia assoluta della spartizione di un paese che nel 1932 aveva firmato un patto di non-aggressione con l'Unione Sovietica e nel 1934 l'aveva firmato di non-aggressione con la Germania, che sarà denunciata poi nella crisi del 1939 da Hitler. Il destino della Polonia è quindi la spartizione, è la quarta spartizione che la Polonia subisce dalla fine del Settecento. È un paese che era scomparso dalla cartina d'Europa e che aveva rischiato la scomparsa dalla storia, perché i processi di assimilazione operati da Prussia, Impero Austro-Ungarico e Russia furono tarati in maniera diversa, con la cancellazione della cultura polacca che passava dalla lingua, l'istruzione e in parte, escludendo la parte austriaca, della religione. La quarta spartizione avviene nel 1939 e ci sono persecuzioni, ma non come possiamo immaginare noi. Noi abbiamo le immagini della parte teresca che conosciamo benissimo, della parte sovietica ne sappiamo pochissimo. Intere famiglie vengono deportate in Siberia, agli ufficiali viene data la caccia, vengono arrestati, incarcerati soldati semplici ed ufficiali, le cui famiglie sono deportate. E poi si saprà nel 1943 dove finiscono molti di questi ufficiali, finiscono nelle fosse comuni di Katil, che vengono scoperte dai tedeschi. Mi sembra una lunga premessa, ma è necessario per capire perché, per come poi a un certo punto Varsavia insorge. Perché gli ufficiali polacchi? Perché sul modello italiano, ma in maniera più raffinata, gli ufficiali sono i diplomati e i laureati, sono esattamente lo specchio della classe dirigente. Sono ingegneri, medici, avvocati, giudici, sono i professionisti. Decapitare dal punto di vista ideologico la classe dirigente significa poter più facilmente asservire la massa popolare che nel frattempo è sotto tallone da una parte e dall'altra. Guardate che la Gestapo, la famigerata Gestapo, che sappiamo bene tutti cosa ha combinato in Germania, andava d'amore e d'accordo con l'NKVD, stalinista. Si passavano informazioni e si scambiavano i prigionieri, né più né me. Gli oppositori venivano consegnati, i fiordi comunisti venivano consegnati da Stalin ai tedeschi per compiacerli. Quando Hitler attacca l'Unione Sovietica, faccio un piccolo passo indietro ancora. La grande macchina militare della Wehrmacht, che noi erroneamente eleviamo a specchio della Blitzkrieg con la campagna di Polonia, assolutamente no, la campagna di Polonia ebbe delle tattiche militari innovative, ma la guerra venne combattuta come proiezione riveduta e corretta delle guerre in precedenza. Infatti, basta vedere i dati degli eserciti, al di là della Polonia, che aveva un'esagerata forza di cavalleria, ma le formazioni corazzate tedesche erano poche. Non erano ancora pienamente operative. I cavalli erano tanti, anche per i trasporti e per l'artiglieria. Poi, sgombinata la Polonia, e di fronte a una constatazione che gli inglesi e i francesi hanno dichiarato la guerra, ma non la fanno, la Wehrmacht ebbe tutto il tempo di avvalersi dei formidabili rifornimenti di materie prime che arrivavano da chi? Dall'Unione Sovietica. Petrolio, luom, manganese, grano. Cioè, quella macchina venne alimentata da Est, in base ai trattati commerciali che erano complementari al patto Ribbentrop-Molotov. L'ultimo convoglio di aiuti militari transitò nella notte del 22 giugno 1941. Chiedo scusa. Quindi, altro che favole, altro che rivisitazione della storia come patto tattico per guadagnare tempo, no, 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 per niente. C'è un discorso di Stalin al Politburo quando deve decidere se accettare le offerte di alleanza di Francia e Inghilterra per difendere la Polonia o accettare le offerte tedesche per avere gratis la Polonia, perché guardate, noi ci vuole un fine genio per capire quale sia l'offerta migliore. Ma c'è disegnato chiaramente lo scenario, perché Stalin ha, per usare una metafora calcistica, due risultati su tre. Allora, la vittoria e il pareggio. Innanzitutto ottiene il risultato immediato della Polonia e mano libera sui paesi baltici, col secondo patto Ribbentrop-Monodoro. E dall'altro sta alla finestra e assiste allo scontro continentale e vede chi vince. Certo, lui non poteva immaginare, quello che non poteva immaginare è Mezzomondo, che francesi e inglesi siano ben guardati poi dal rispettare il patto di militare di alleanza con la Polonia, perché sappiamo che i soldati francesi facevano delle scampagnate appena appena al di là del confine, davano un'occhiata e poi tornavano dietro. E c'è un passo del Bomber Command, è un documento, non l'invento io, ma che vi raccomando, quando Harris non era ancora a capo del Bomber Command e sollecitava bombardamenti di strutture o altre con la precisione data degli strumenti dell'epoca. E gli viene eccepito questo, attenzione, qui ci sono proprietà private, non possiamo colpire proprietà private. E ne sapete un'altra bellissima che è paradossale, che le industrie tedesche presero i diritti sui brevetti della costruzione di bombe che poi gli inglesi sganciarono sulla Germania. Guardate la storia è fatta di particolari assolutamente spiazzanti, assolutamente spiazzanti. E poi c'è un'onda di riflusso, come è stato ben detto. Stalingrado è il primo segnale. Quando vi ho detto che la Polonia non si arrende, non pensate solo all'esercito che voi vedete visivamente, per fare un esempio, i polacchi che hanno combattuto a Monte Cassino, o ai piloti polacchi che hanno difeso l'Inghilterra nella battagliera d'Inghilterra. Sono stati migliori, hanno il più alto tasso di abbattimento di aerei. Loro i ciechi hanno abbattuto più aerei in proporzione di quanto abbiano fatto gli inglesi che difendevano loro stessi. Quindi se c'è una cosa che non mancava era la voglia di battersi. Ma che succede? In Polonia immediatamente, sull'onda da De Bellazio, si crea un movimento di resistenza articolato con varie sigle, una galassia anche abbastanza difficile con le sigle. Ma si crea questo forte movimento di resistenza che si ancora alla suddivisione in distretti militari del territorio polacco. I polacchi hanno avuto un ruolo incredibile nella vittoria degli alleati che non viene mai riconosciuto. A partire dal jolly, io lo chiamo così, Enigma. Il codice Enigma, i messaggi indecifrabili, criptati con Enigma, sono stati riportati in chiaro per la prima volta dai criptografi polacchi. Tre in particolare. Nel segreto più assoluto. I loro studi e le loro formule matematiche sono stati imprescindibili per il lavoro di Alan Turing per realizzare il primo computer moderno della storia e poter leggere in tempi accettabili e utili i messaggi che i tedeschi scambiano tramite il codice Enigma. Oggi sappiamo per certo che la grande vittoria di Montgomery e l'Alamen è sulla scia di una serie di informazioni militari nevralgiche tratte dalla decrittazione di messaggi Enigma. Non dico sarei stato capace pure io di vincere con quell'informazione, ma insomma, un piccolo aiutino. Tant'è che poi il codice Enigma rimase un segreto assoluto e inviolato fino al 1976. Quindi parliamo di 30 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma parte tutto da Varsavia, dal centro analisi e da questi tre matematici, Rejewski, Cikalski e Ruczycki, che per prime riuscirono a penetrare un codice che era definito assolutamente inattaccabile. I tedeschi non lo scoprirono mai nel corso della Seconda Guerra Mondiale. ma tutte le informazioni di intelligence che arrivavano dalla Polonia. Dalla Polonia arrivò nel marzo 1941 la prima nota informativa su quello che era Auschwitz. Arrivarono rapporti dall'interno di Auschwitz in cui si parlava per la prima volta di Shoah. Gli alleati sapevano, e per bacco se sapevano, sapevano perfettamente, perché il primo rapporto lo giudicarono esagerato, ma gli altri non facevano altro che disegnare una realtà che noi, come opinione comune, abbiamo scoperto molto tempo dopo. la resistenza polacca era quella che riuscì a far pervenire a Londra dei pezzi di V1 e di V2 per studiare le contromisure contro le bombe volanti. Ed era questo esercito clandestino che continuamente informava, sabotava e uccideva. Il generale Cucera delle SS fu ucciso dalla resistenza polacca che pagava quando andava bene certi attentati, a volte anche con le proporzioni 1 a 100. E se ci pensate dei grandi gerarchi, dei grandi generali che furono uccisi dalla resistenza, se escludiamo l'operazione eclatante, l'antropoid da parte della resistenza cecoslovacca con Heydrich, non è che abbiamo tantissimi esempi. Con una popolazione sistematicamente vessata, perseguitata, fucilazioni sommarie, cioè stiamo parlando della negazione della civiltà e del diritto nello stesso momento. Quando c'è l'onda di riflusso da Est è già accaduto qualcosa. Cioè Stalin ha dovuto liberare tutti i prigionieri di guerra tranne gli ufficiali già sterminati a Katyn e in altre fosse comune, cioè sepolti in fosse comuni in altre località che Katyn comprende Starobiesk, Ostaszkow e altro. C'è stato un esercito polacco che si è ricreato con i prigionieri di guerra e che è stato affidato al generale Anders. Anders già ufficiale zarista nella Prima Guerra Mondiale, comandante di cavalleria, ovviamente imprigionato, torturato alla Lubianca, quindi sapeva benissimo con chi aveva a che fare. In un primo tempo Stalin pensa di poter parcellizzare i polacchi nel suo esercito e così neutralizzare anche l'elemento nazionalista polacco, ma lì c'erano non solo soldati, ma c'erano anche donne e bambini, perché come abbiamo detto avevano deportato anche le famiglie degli ufficiali. E allora se ne libera. Se ne libera. E se voi prendete una bella cartina del mondo e cominciate a seguire un percorso che dalla Siberia arriva, ovviamente voi lo leggete in senso contrario, ci provo, dalla Siberia arriva così, Medio Oriente, Iran, Palestina, Africa, Italia. È una mostruosità. Le traversie di questo esercito sono una mostruosità, ma servono a dimostrare anche all'esterno che c'è una Polonia che combatte viso aperto contro i tedeschi. i russi sono riusciti a creare anche quella che chiamano un'armata, ma che non è propriamente un'armata, perché è composta di bassa mano balanza, cioè soldati polacchi, ma con quadri intermedi e ufficiali, sono tutti sovietici, se non ufficiali di carriera, sono commissari politici, dovevano essere sotto controllo. I polacchi nella vita, nella loro storia recente, sono stati specialisti nelle rivolte e nelle rivoluzioni. I russi sapevano benissimo cosa pensassero di loro all'epoca e soprattutto cosa pensavano di Stalin. Esiste un esercito clandestino in patria che conta per tutta la Polonia, io vi faccio una cifra che è abbastanza impressionante per questo esercito clandestino. Parliamo di 400.000 uomini e donne, cioè non parliamo di numeri di resistenza così, 400.000 che sono continuamente nel mirino della Gestapo e dell'SS, perché i teleschi non sono quelli dei film di guerra, il telesco è sempre stupido e ottuso. Per strammatizzare, avete mai notato, non negli ultimi, ma quelli che si facevano una volta, i teleschi uscivano sempre dalla stessa porta dove c'era l'inglese o l'americano che lo falciava sistematicamente e non si capiva perché questi dovessero uscire per farsi uccidere. Tra l'altro, gli inglesi e gli americani hanno sempre delle armi che non si scaricano mai, avete notato? Ci sono raffiche di mitragliatrici di migliaia di colpi con caricatori da venti che non si sa come possano. Quindi i teleschi non sono questi, i teleschi hanno dispiegato anche loro l'intelligence contro l'intelligence. Quando i russi arrivano in vista della Polonia, c'è un problema politico da risolvere, è un grande problema politico da risolvere, perché dopo la scoperta delle fosse di Katyn, Stalin ha rotto le relazioni diplomatiche con il governo polacco in esilio a Londra. Poi il 4 luglio, ed era pure offeso, perché i polacchi si erano permessi di sollecitare un'inchiesta della Croce Rossa internazionale in quanto era evidente che quegli ufficiali erano stati uccisi durante il periodo di occupazione sovietica di quei territori che Stalin considerava non Polonia. Vedete anche qua le finzioni giuridiche. Per Stalin quello non era Polonia, lui mica aveva invaso la Polonia. Lui si era ripreso l'Ucraina e la Bielorussia occidentale. Quindi non era Polonia. Quindi aveva rotto le relazioni diplomatiche. Nella Commissione internazionale c'era peraltro, e vi invito anche a fare una piccola ricerca per interesse personale, per carità, c'era un italiano, un famoso anatomo patologo di fama internazionale, Vincenzo Palmieri, e poi nel dopoguerra diventerà per un breve periodo anche sindaco di Napoli e sarà fatto letteralmente a pezzi dalle sinistre italiane, ogni giorno con accuse sui giornali in cui si chiedeva proprio la sua testa, l'espulsione dell'università, che era un servo di Hitler, che era a busta paga di Himmler o altro, dove le risultanze scientifiche che sono inoppugnabili vennero firmate da tutti gli specialisti internazionali. Quelli erano stati uccisi nel periodo di occupazione sovietica. Poi tra l'altro c'erano dei particolari inconfondibili come guardate, le pallottole utilizzate per uccidere i 4.000 ufficiali dedicati, ne erano pallottole marca Gheko tedesche. I tedeschi dimostrano a Nuremberg che facevano parte di una partita di munizioni nell'ambito degli scambi commerciali che erano stati ceduti i sovietici. Però poi ci sono le borracce o i corpi che portano tracce di colpi di baionette, evidentemente erano stati uccisi dalla pallotta, non erano ancora vivi, e la baionetta triangolare è in uso solo all'esercito sovietico e non all'esercito tedesco. Il 4 luglio del 43 a Gibraltar c'è un misterioso incidente aeronautico dove c'è il Lancaster che ha a bordo il generale Wadislaw Szykorski, comandante delle forze armate polacche, che come arriva al cospetto della Rocca invece di decollare per il gioco. I sospetti di omicidio politico c'erano tutti, ma a distanza di molti anni qualcuno andrà a ricollegare e scopriranno che il responsabile inglese dei servizi segreti a Gibraltar era un certo Kim Felby che negli anni 50 si scoprirà essere da molto tempo il libro paga del Cremlino. La morte di Szykorski ha determinato un fattore politico molto importante che mentre prima esisteva un solo referente del governo polacco in esilio vengono uscisse le cariche quelle di premier e quelle di comandante delle forze armate indebolendo di molto la posizione polacca che comunque era già stata indebolita nel 1943 poi dalla conferenza di Teheran dove Stalin era riuscito ad imporre la sua visione di riassetto di quella parte dell'Europa alla fine dell'ostilità. Cioè quello è il primo atto del sacrificio della Polonia sulla sua pelle. Non siamo ancora nella certezza che gli alleati possano vincere la guerra e Stalin come abbiamo visto per Katin è uno che sarebbe anche capace di stipulare una pace separata con Hitler non c'è stato ancora lo sbarco in Normandia l'Inghilterra è ancora sulla difensiva ed è un lusso che Churchill non si può permettere per cui obbliga in qualche modo un riavvicinamento e per i polacchi si tratta con con l'occupazione in casa e i sovietici che arrivano di dare un segnale all'esterno di vitalità questo segnale quindi si inserisce in un quadro geopolitico molto complesso per cui i polacchi che insorgono a Barsavia hanno un nemico militare che è chiaramente la Germania ma hanno un nemico politico che è l'Unione Sovietica quindi è come se stessero combattendo in una battaglia due battaglie cosa è successo nei territori orientali in cui è penetrata l'Armata Rossa che l'ACA cioè l'esercito clandestino polacco esercito territoriale Armia Krajowa in una prima fase ovviamente ha cooperato con i russi per la liberazione della Polonia arrivavano i liberatori cosa è accaduto immediatamente nella seconda fase che i sovietici hanno disarmato tutti i combattenti della K nel migliore dei casi li hanno imprigionati e siamo ancora nel migliore dei casi o li hanno fucilati liquidati 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 e queste cose a Varsavia si sapevano a Londra si sapevano Stalin è stato un genio criminale noi non stiamo parlando di persone con un cosiddetto intellettivo medio stiamo parlando di persone con un cosiddetto intellettivo assoluto sarebbe come negare l'intelligenza a Goebbels Goebbels è un genio del male era un uomo intelligentissimo era votato al male è così Stalin quindi cosa accadrà? se i sovietici libereranno Varsavia imporranno sicuramente il loro sistema e smantelleranno l'armia Krajowa quindi c'è la possibilità di un'insorrezione che sia più che altro un messaggio politico che passa attraverso una via militare cioè la Polonia c'è la Polonia combatte la Polonia Varsavia si libera da sé e poi ci sono dei fattori esterni che spingono verso una soluzione su cui non c'è non dico unanimità ma non c'è neppure accordo tra i vertici polacchi ad esempio il generale Anders era assolutamente contrario fu fatta una votazione all'interno dei vertici della resistenza polacca che terminò 5 a 5 fu un ufficiale un generale paracadutato nel maggio del 44 in Polonia che col suo voto fece pendere la bilancia dalla parte sì prima o poi dobbiamo preparare tutto per una rivolta Anders diceva che non si possono organizzare tante rivolte si deve organizzare una rivoluzione quindi con raccordo anche esterno era possibile non era possibile ma lo sappiamo noi oggi non lo sapevano loro all'epoca dei fatti e qual è uno degli elementi che spinge al di là della voce che stanno arrivando i russi è che i tedeschi a un certo punto emettono un bando e chiedono centomila lavoratori nella città di Varsavia per approntare le difese contro i sovietici questo accade mentre si pensa che i tedeschi si ritireranno alla Varsavia perché la situazione militare dal punto di vista strategico è per loro insostenibile e hanno cominciato già a bruciare i documenti guardate quello che è successo a Roma la sera dell'8 settembre del 43 quando i nostri geni militari tra cui il generale Carbone che l'ha pure scritto nelle memorie i tedeschi cominciarono a bruciare tutte le carte all'ambasciata che all'epoca era Villa Volkonski quindi significa che se ne vanno e lui chi osa è il nemico che fugge Ponte d'Oro quindi lui era convintissimo che se ne sarebbero andati sappiamo tutti come è andato a finire allora questo bando che chiede centomila uomini cosa significa che se vai in applicazione ti prosciuga la forza combattente clandestina se non vai in applicazione devi insorgere ed è a quel punto che si decide non d'intesa ma informando Londra che è arrivato il momento dell'insurrezione che viene fissata al primo agosto alle ore 17 per una serie di considerazioni pazzesche tipo che il traffico in città avrebbe mascherato i movimenti degli appartenenti all'armia Craiova che si andavano a riunire pensate per la prima volta a forma cioè raggruppandosi in plotoni e battaglioni perché questa struttura era molto ramificata ma chiaramente non è che potessero fare esercitazioni tiro o altro quindi per la prima volta l'ordine di raggrupparsi arriva cercando di approfittare del fatto che in città c'era molto traffico i tedeschi non si sarebbero accorti di quello che poteva accadere ma i tedeschi che non sono quelli dei film qualcosa l'avevano visto e qualche giovane ardimentoso polacco fece in modo di rafforzare il loro dubbio comunque di alzare il loro stato di allerta cioè facendo dei piccoli attacchi delle scaramucce sull'onda dell'entusiasmo che insospettirono i tedeschi in questo quadro di indeterminatezza si aggiunge pure il fatto che contrariamente a quello che pensavano i generali polacchi l'ora era infelice perché non c'era stata la possibilità di diramare gli ordini operativi a tutti i reparti che erano sparsi sul territorio della capitale e soprattutto non si era fatto una cosa sempre col senno del Poi che sarebbe risultata molto importante nel mettere in crisi lo scacchiere tedesco cioè quello di coinvolgere le bande partigiane quindi l'unità dell'armia Craiova all'esterno della cinta urbana di Varsavia perché questo avrebbe costituito per i tedeschi il pericolo di essere presi tra due fronti la battaglia urbana c'è nato prima parlando Ortona è lo scenario che più preoccupa qualsiasi generale d'epoca moderna basta tornare indietro del tempo neanche tanto Iraq Baghdad Mogadiscio Somalia lo scontro urbano è uno scontro che dicono gli analisti militari che ricorda il furore delle battaglie medievali e noi sappiamo che psicologicamente un soldato può accettare di essere ucciso da una pallottola ma non accetta di essere infilzato da una baionetta guardate il risultato è lo stesso e noi ne abbiamo una riprova nell'ipocrisia dei trattati internazionali in cui sono state definite le armi cosiddette buone e le armi cattive quelle vietate le pallottole esplosive sono vietate le dum dum ma basta una pallotta di un mitragliero da 20 mm che ha un effetto altrettanto devastante o una raffica di MG che era detta la sega di Hitler perché una raffica era capace di segare una persona in due aveva una cadenza di tiro al massimo della potenza dell'arma che veniva depotenziata pensate un po' di 1200 colpi al minuto cioè sono 20 colpi al secondo una raffica di 3 secondi sono 60 proiettili voi pensate che effetto può avere una raffica di 60 proiettili su un corpo umano e l'MG per inciso è ancora in dotazione è ancora depotenziata perché consuma troppe pallottole quella mitragliatrice quindi è una portata a 500 560 esatto quindi pensate nel 42 che cosa avevano già fatto i tedeschi i polacchi le armi dei polacchi da dove arrivano sono quelle che hanno nascosto nel 39 quando cinque anni dopo tirandole fuori dai rifugi sono state ancora utilizzabili sono quelle che hanno sottratto i tedeschi sono quelle che hanno comprato dai tedeschi ma sono soprattutto quelle che si sono fabbricate in laboratori clandestini che hanno creato giorno dopo giorno questo arsenale di mitragliatrici pistole bombe a mano lanciarazzi e bottiglie Molotov rielaborate certo non possiamo pensare che avessero armi per tutti non per tutti i resistenti di Varsavia ma per tutti i militari dell'armia Craiova che mi piace sottolineare il ruolo che ebbero le donne in questa battaglia ci sono state 4800 soldatesse dell'armia Craiova e che non erano come possiamo pensare noi solo le croce rossine o le vivandiere erano donne combattenti e avevano un motivo per battersi e come se ce l'avevano quindi quando scoppia quella che sarà poi l'operazione Buja si scrive Burza ma si pronuncia Buja non è una bella parola ma se la trovate scritta da qualche parte almeno l'obiettivo tattico qual è? possiamo pensare che i polacchi potessero credere di sconfiggere la Wehrmacht un po' di romanticismo folle sì ma follia fino a questo punto no però poteva tenere impegnata potevano fare in modo di distogliere le forze dal settore orientale di Varsavia dove erano arrivate le avanguardie sovietiche del maresciallo Rokossovski che come dice il nome era di origini polacche era figlio di un ferroviere che però aveva optato dopo la rivoluzione russa per l'altra metà del aveva ascoltato la voce dell'altra metà del sangue e quindi era un ufficiale dell'armata rossa e qui rientra in gioco la politica quindi la rivolta ha un obiettivo limitato e ce l'ha soprattutto limitato nel tempo perché ha il respiro corto si è calcolato una settimana due esatto qualcosa arriverà e poi abbiamo i nostri compagni in Italia abbiamo i nostri alleati inglesi abbiamo una brigata di paragadutisti in Inghilterra altamente addestrata figuriamoci ci lanciano le armi arrivano i paragadutisti liberiamo Varsavia mettiamo in crisi l'intero fronte arrivano i sovietici e noi ci li accogliamo come fratelli ma in casa nostra tutti questi piani sono destinati a fallire ma nell'arco di poche ore cioè ci si rende subito conto di una cosa e oggi noi siamo abituati alla tecnologia la modernità la velocità sapete da dove partivano gli aerei per i rifornimenti a Varsavia qualcuno lo sa? da Brindisi 1400 km all'andata 1400 km al ritorno attraversando un territorio nemico una contraerea che quella tedesca non era quella italiana con un'autonomia al limite con altissime probabilità di non indovinare i punti di lancio degli aiuti anche perché questi aiuti paracadutati dovevano avvenire a bassa quota si arriverà a lanciare da 45 metri 45 metri per un quadrimotore dell'epoca era a livello di suicidio i primi squadroni che partono da Brindisi per rifornire gli insorti hanno delle perdite altissime mostruose cioè non c'erano tante perdite neppure quando si è andato a bombardare la Crup obiettivi militari di un'importanza nettamente superiore per le sorti della guerra di quello che poteva significare aiutare gli insorti di Varsavia e voi direte tutti quanti dicono questo vabbè vai aiuti poi pochi chilometri più a destra verso est atterri in un aeroporto sovietico fai rifornimento ripassi da dietro e torni a Brindisi secondo voi Stalin come si comporta in questa circostanza Stalin nega il permesso di atterraggio usando queste testuali paroliche con i criminali di Varsavia non vuole avere nulla a che fare e vi dirò di più in alcuni casi la contraerea sovietica spara contro gli aerei con le chocarde inglesi più delle volte con equipaggio polacco qualche volta anche neozelandese che sconfinano sui territori sotto controllo dell'armata rossa e nel frattempo ha inviato cogliendo a pretesto un contrattacco del nuovo come si chiama armeo per commando del del nono gruppo di armate di Rundstedt per cui da ordine a Rogossovski di fermarsi e di non entrare a Varsavia e quindi i sovietici sono sulla sponda orientale della pistola cioè sono in vista di quello che accade ma hanno ordine di non intervenire vede comunque noi rigiriamo questa vicenda la chiave di lettura non è militare non è storica è sempre ed esclusivamente politica Stalin al primo ministro polacco che è andato lì per cercare di rimettere le cose sui giusti binari Miko Wajcic in un primo tempo nega che ci sia l'insurrezione a Varsavia e gli dice ma no c'è nessuna insurrezione dopodiché io ho preso degli appunti perché guardate se ve lo dico voi mi prendete per pazzo cioè vi dico cosa dicono dei rivoltosi di Varsavia allora il 3 agosto quindi siamo al terzo giorno di insurrezione Radio Armada Rossa dice l'esercito popolare ha preso le armi cioè loro l'esercito popolare sarebbe l'armia Ludova non l'armia Craiova è l'esercito comunista che è composta da circa 500 militanti cioè noi parliamo di 40.000 combattenti ce ne sono 500 dell'armia Ludova per Radio Armata Rossa l'esercito popolare ha preso le armi cioè loro i soldati dell'esercito nazionale affiancano quelli dell'esercito popolare cioè 39.500 affiancano 500 che hanno preso le armi e poi la chiave politica di un certo Lavrent Iberia un galantuomo che dice i nazionalisti polacchi stanno fomentando attività antisovietica in Lituania e quindi già fanno capire come trattano quelli dell'armia Krajowa e la Pravda chiede in pratica al premier Mikhail Kovacic che viene tenuto in frigorifero Stalin manco lo riceve lo fa aspettare perché nel frattempo è stato creato il comitato di liberazione nazionale che poi passerà la storia con il nome di comitato di Lublino che le prime cose che dice è che il governo legittimo a Londra è un governo di usurpatori la costituzione del 35 deve essere stracciata perché è una costituzione fascista e poi quelli dell'armia Krajowa sono dei delinquenti criminali servi di Hitler non vi basta e non ci credete allora il partito comunista polacco ricostituito da Stalin Komorowski Burr sarebbe il generale comandante del reparto ha tradito la rivolta vile traditore assumiamo noi il comando tutti gli ordini del cosiddetto esercito nazionale vanno disubbiditi tutti gli ufficiali vanno arrestati e consegnati all'armata rossa fucilare chi si oppone bracciali bianco rossi e la sostituire con rossi sparare contro chi non lo fa l'armata rossa li considera traditori adesso vi parlerò anche qui devo leggere perché altrimenti sarei pico della mirandola George Orwell sapete chi è stato cosa ha scritto come e perché e le signore mi perdonino ma io devo ripetere le parole che ha usato lui il primo settembre del 44 sul tribune e il suo jacuzzi alla situazione virgolette vergognoso atteggiamento della stampa britannica che censura o sminuisce quello che si sta facendo a Barsavia e dice Orwell ricordate che la disonestà e la vigliaccheria si pagano sempre definisce i colleghi propagandisti leccapiedi del regime sovietico scribacchini prezzolati e conclude con questa parola chiedo ancora scusa puttana una volta puttana sempre questo è uscito sulla stampa inglese di George Orwell il primo settembre del 44 per gli aiuti che non arrivano agli insorti è passato un mese di una rivolta che deve durare al massimo delle potenzialità una settimana perché sin da subito gli obiettivi strategici vengono mancati non vengono presi i quattro ponti sulla vistola che avrebbero tolto ogni sarebbe bastato uno avrebbero tolto ogni alibi all'armata rossa a non entrare dal quartiere Praga alla città vecchia di Varsavia i tedeschi su Varsavia nella prima fase dei combattimenti adoperano il peggio del peggio innanzitutto è la prima volta che viene affidata un'intera operazione alle SS ma le declinazioni delle SS sono il peggio del peggio ci sono due reparti che passeranno tristemente alla storia la brigata Kaminsky e l'unità di Dirlewanger due criminali ma criminali in senso penale del termine parliamo di personaggi che con lo schermo dell'uniforme danno sfogo ai loro peggiori istinti uno dei quali aveva avuto già guai per pedofilia e altre amenità come torture o altro con reparti che sono costituiti in un caso dal 40% dei criminali comuni 40% ex condannati ai campi di concentramento e un 5% di truppe regolari questi reparti vengono lanciati come i cani da muta contro i polacchi avendo in pratica la possibilità di fare quello che vogliono non ci sono convenzioni non ci sono convenzioni non ci sono controlli non ci sono punizioni allora questi reparti si distinguono non per quello che fanno in una battaglia urbana ma per quello che fanno la popolazione civile vengono passati per le armi uomini donne e bambini si ubriacano e violentano tutte le donne che li capivano comprese suore e infermiere degli ospedali nei quartieri di Yokota e Vola vengono sterminati sterminati con armi convenzionali non stiamo parlando di camera gas dai 20.000 ai 40.000 civili e qui ci sono forse delle immagini chiunque venga preso viene ucciso senza pietà furti rapine stupri omicidi di massa in questa maniera pensano di poter riportare ordini in una città che non può essere riportata all'ordine da unità di polizia e da unità di criminali sotto ordini di SS ma i veri obiettivi strategici quelli che avrebbero potuto trasformare la rivolta di Varsavia in battaglia per Varsavia vengono tutti mancati perché è mancato cioè c'è stata la sorpresa della rivolta ma non la sorpresa che sarebbe accaduto la rivolta per cui i tedeschi si sono trincerati e anche nelle zone dove sono rimasti isolati nella prima fase dello sconto soprattutto nella città vecchia hanno resistito e abbastanza bene gli insorti invece hanno dimostrato un coraggio impressionante innanzitutto i tedeschi sono sorpresi dal fatto che abbiano delle armi ma che hanno anche delle armi anti-carro sono riusciti a catturare persino due carri panther riutilizzati e portano indossano degli uniformi che sono quelli delle SS a cui hanno tolto le mostrine o sono addirittura quelli degli operai del telefono o altro e poi portano tutti il bracciale bianco-rosso ricordate prima che si diceva no bisogna sostituirlo con quello rosso portano il bracciale bianco-rosso hanno il berretto con l'aquila bianca e portano dei gradi militari perché c'è un salto di considerazione vogliono essere riconosciuti come legittimi combattenti non come partigiani nella prima fase in cui non si prendono prigionieri i tedeschi commettono un crimine di guerra due volte sapendo di commetterlo primo perché i prigionieri si fanno e secondo perché vengono eliminati dei regolari combattenti le stragi che hanno compiuto esatto Ginevra 1929 esatto con determinati contrasti esatto e loro erano tutti riconoscibili uomini e donne i polacchi si battono benissimo riscuotono l'ammirazione del mondo ma sono isolati quando i sovietici e ve lo dico per inciso per salvare la faccia aderiranno alle richieste alleate di poter fare rifornimento nella zona dell'Ucraina già liberata salvo proprio due giorni dopo dire che non c'è più motivo perché la rivolta è già finita faranno anche essi dei lanci di aiuti agli insorti bene allora molto spesso li faranno da quota troppo bassa in maniera tale che le casse arrivate a terra troppo in alto per cui le casse si distruggeranno all'impatto altre volte lanceranno delle armi senza munizioni quindi inutilizzabili e altre volte lanceranno delle munizioni con calibro diverso rispetto a quelli che avevano gli insorti dopodiché non lanceranno più niente è diabolico il disegno se ci pensate è politicamente diabolico ma dannatamente efficace il calcolo di Stalin è molto semplice lui ha due nemici sulla sponda occidentale della Vistola ha i tedeschi che sta battendo militarmente e ha l'armia Craiova che è il suo nemico politico e la conclusione si scannassero tra di loro e quando si saranno dissanguati l'armata rossa interverrà in effetti alcune reparti dell'armata rossa passeranno alla Vistola e saranno proprio quei polacchi che sono stati arruolati nella prima armata di Berling che vedevano cosa stava accadendo lì c'erano polacchi che si battevano e loro erano costretti a stare fermi a non poter fare nulla Stalin in una prima fase farà attraversare la vista da questi reparti ovviamente senza dotarli di armi pesanti andate 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 le moriranno tra i 4 e i 5 mila ma tanto erano polacchi lui non si curava delle perdite sovietiche figuriamoci dei polacchi in maniera tale che potrà mettere sulla bilancia come no io sono andato in soccorso ma la situazione strategica non era sostenibile e poi naturalmente si autorerà Berling dal comando perché si era avventato in un'operazione non autorizzata l'epopea della rivolta di Varsavia si esaurisce ai primi di ottobre sono passati due mesi della rivolta due mesi pieni di una rivolta doveva durare sette giorni e in pratica le uniche condizioni che riescono a strappare ma che sono condizioni importanti dal punto di vista politico è il riconoscimento dei legittimi combattenti a uomini e donne dell'armia Krajowa ed è la prima volta i tedeschi che applicano questo principio a un esercito irregolare e poi che la popolazione civile non sarà riservata la sorte che le SS le erano riservate nei quartieri che avevano attaccato questo sarà in parte mantenuto nel senso che la popolazione di Varsavia sarà comunque fatta evacuare ci sono delle immagini molto belle molto romantiche dell'esercito sconfitto che marcia imparata di fronte ai vincitori gli accordi per la resa saranno sottoscritti non con le SS ma con la Wehrmacht e il particolare è tutt'altro che trascurabile Bach Zilevski generale delle SS che spesso viene chiamato solo Bach ma si chiama anche Zilevski perché era brussiano ed era di famiglia mista tedesco polacca un altro criminale di guerra che testimoniando contro i suoi ex colleghi a Norimberga si salverà dalla condanna dovrà stringere militarmente la mano ai suoi avversari tra gli ufficiali polacchi mi piace ricordare una figura che è quella semi sconosciuta del capitano Vitol Pilecki che sarà uno degli ufficiali imbattuti della rivolta di Varsavia so il nome non vi dice niente però se vi dico cosa ha fatto Pilecki è stato mille giorni ad Auschwitz ma ci si è fatto mettere volontariamente per un'operazione di spionaggio e di informativa agli alleati è stato l'unico volontario ad Auschwitz e ha mandato lui il primo rapporto e tutti quelli che sono seguiti su cosa accadeva ad Auschwitz sollecitando un bombardamento e un intervento per far terminare la fabbrica dello Serminio il primo rapporto come vi ho detto non venne creduto agli altri non fu dato seguito perché fu fatto una scelta politica ben precisa bombardare Auschwitz o le linee ferroviarie di Auschwitz devo fare una premessa cioè cerchiamo di isolare per un attimo l'elemento emotivo anche se è difficile bombardare la linea ferroviaria per Auschwitz comportava per i tedeschi un ritardo nel transito dei convogli dalle 24 alle 48 ore cioè il genio militare era in grado di riparare una linea bombardata al massimo in due giorni quindi il transito per Auschwitz veniva solo rallentato e sapete che tutti i treni con a bordo i deportati per i campi di Serminio avevano la precedenza sui convogli militari cioè Hitler stava perdendo la guerra ma era intenzionato a far sparire la razza ebraica dell'Europa quindi i convogli per Auschwitz avevano la precedenza sul traffico ferroviario bombardare le linee era una missione difficile costava alte perdite e non aveva alcun alcuna influenza sull'esito della guerra per di più avrebbe dato la stura a Goebbels di poter utilizzare dal punto di vista della propaganda questo elemento nel senso come era stato detto all'inizio della guerra quando Hitler disse se scoppierà un'altra guerra in Europa per colpa della razza ebraica essa si concluderà taglio una parte che dice con la definitiva scomparsa della razza ebraica dell'Europa e Goebbels avrebbe sicuramente detto che la guerra scoppiata per colpo degli ebrei era testimoniata dal fatto che gli alleati invece di fare la guerra pensavano a salvare gli ebrei ci siamo? Pilecki finirà come ufficiale in un campo di concentramento e poi la sua guerra terminerà con la fine del conflitto cosa accade di Varsavia? Hitler dà ordine di cancellarla dalla faccia della terra c'è una ricostruzione nel film il pianista che credo tutti abbiate visto presumo che passano delle squadre speciali con il lanciafiamme e con gli esplosivi per distruggere quel che resta di Varsavia che è stata bombardata dal cielo e da terra e torniamo a un altro discorso Hitler sta perdendo la guerra con i russi sul fronte orientale ma dirotta esplosivi e reparti del genio a Varsavia per cancellare la città che gli ha dato questo scacco di fronte al mondo ormai la rivolta viene bollata dai sovietici come un grande crimine con parole che potrei leggervi delle frasi che sono veramente impressionanti cioè la cosa non so quando viene fatto il processo a Oculitsky si parla del processo dei 16 banditi fascisti travestiti da democratici uomini a servizio di Hitler raggenti tedeschi fascisti e armia carajova organizzazione illegale questi erano gli atti d'accusa del processo a coloro che si erano battuti a Varsavia i famosi processi farsi esatto Varsavia viene completamente rasa al suolo come si vede in molti documentari come è ricostruito nel film ma qualcuno di voi è stato a Varsavia non necessariamente di recente avete visto il centro storico di Varsavia è nuovo sì è nuovo ma sapete come è stato ricostruito questi lo sanno in pochi non perché lo so io come lo so ve lo dico come è stato ricostruito il centro storico di Varsavia lo direte cartoline d'epoca certo cartoline d'epoca con lo stesso materiale gli stessi mattoni recuperati nelle macerie certo ma poi per i colori le distanze questo come si è fatto con i quadri di Canaletto sono stati utilizzati tutti i quadri con le vedute di Varsavia di Canaletto per ricostruire il centro storico di Varsavia com'era e dov'era e quindi rispettando anche i colori ecco perché chi ignora la storia e si trova proiettato a un certo punto nella città vecchia di Varsavia completamente raso al suolo vede una città antica che però non è antica è uguale alla città antica allora la rivolta di Varsavia costa 200.000 morti mettete in fila 200.000 persone e vi rendete conto era una battaglia persa in partenza quindi è una battaglia inutile secondo il nostro metro di contemporanei perché fanno una battaglia da perdere? era una battaglia inutile 200.000 morti l'Italia ha avuto in tutta la seconda guerra mondiale 460.000 morti compreso i civili per i bombardamenti cioè la solita battaglia la sola rivolta di Varsavia è costata come metà di tutte le vittime italiane della seconda guerra mondiale che è praticamente nulla rispetto ai 6 milioni di morti che hanno avuto i polacchi in tutta la seconda guerra mondiale quindi certe volte se la matematica fosse una scienza meno esatta noi ci dovremmo quasi consolare di come sono andate le cose vi faccio un altro numero l'Italia ha avuto 68.000 morti per bombardamenti in tutto quindi un terzo dei caduti della rivolta di Varsavia in 5 anni di guerra le cifre sono impressionanti ma impressionante è quello che succede dopo la rivolta di Varsavia perché poi a gennaio i sovietici entrono a Varsavia dove non c'è più popolazione tranne Wadislaw Spielmann che esce come avete visto nel film dal suo rifugio come altri che sono rimasti in questa città del tutto spettrale infatti viene preso a fucilate forse perché indossa il cappotto tedesco datogli dall'ufficiale che gli ha salvato la vita la storia di Spielmann è vero vi esorto anzi a cercare di ritrovare le sue memorie che sono molto più interessanti del film che comunque secondo me è un capolavoro non hanno più opposizione perché gli insorti sono stati tutti quanti rinchiusi nei campi di concentramento la popolazione è stata evacuata non ci sono più le teste pensanti non c'è la guida politica il comitato di Lublino portato dall'armata rossa insedia il governo che presto viene riconosciuto come governo legittimo anche dagli inglesi Stalin ha ottenuto tutto quello che voleva e per la Polonia si apre una stagione che è quella che doveva essere il passaggio dalla dittatura alla libertà e il passaggio da una dittatura a un'altra dittatura che poi si concluderà nell'89 con le spallate di Solidarnosc che faranno crollare tutto il sistema comunista ma i polacchi altre rivolte in surrezione le faranno ancora prima di Danzig ai cantieri o altro a Poznan nel 56 perché è tutto sicuro che tranne i polacchi dei polacchi tranne che si rassegnino a volte al loro destino e cercano di cambiarlo il più delle volte nella storia non riuscendoci ma è completamente smantellato il sistema polacco la Polonia quindi era stata causa dello scoppio della seconda guerra mondiale appunto esplosa divampata per restituirle indipendenza e integrità e si conclude con l'unico stato nella storia moderna contemporanea che viene spostato ne conoscete altri che vengono spostati dalla cartina la Polonia viene spostata verso l'Occidente Stalin si riprende esattamente con gli interessi quelli che si era preso nel 1939 dove nella Polonia orientale aveva fatto svolgere anche un referendum perché la forma bisogna salvarla c'è stato un bel referendum dove votavano anche le truppe sovietiche che erano intervenute il 16 circa il 98,9% era a favore dell'annessione dell'Unione Sovietica per cui ma si votava chiunque naturalmente i seggi erano presidiati dall'armata rossa quindi voto espresso in piena coscienza e libertà quindi il problema della Polonia orientale per lui non esisteva da allora perché legalmente la Repubblica Sovietica dell'Ucraina occidentale la Repubblica Sovietica della Pielorussia occidentale avevano chiesto di far parte del paradiso socialista retto dal magnifico Giorgiano che fine fanno i soldati polacchi che si sono battuti per la libertà lontano dalla loro terra l'esercito del generale Anders in Italia quasi nessuno tornerà in Polonia Anders si viene privato della cittadinanza infatti muore a Londra nel 1970 e chiede di essere sepolto a Monte Cassino al fianco dei suoi soldati quei pochi che rientreranno saranno perseguitati il solo fatto di militare nell'armia Craiova li esponeva all'accusa di spionaggio io personalmente ho visto dei tesserini militari di soldati polacchi dell'esercito di Anders scusate Anders era il nemico pubblico numero uno il traditore il fascista tutti gli improperi erano per Anders e quelli come lui ma per Anders in particolare sul tesserino militare dove c'era magari il servizio dal 38 al 39 l'esercito polacco poi si apriva il periodo del secondo corpo d'armata di Anders e c'era scritto fidatevi ma potete controllare al servizio di una potenza straniera cioè tutto quel periodo era al servizio di una potenza straniera quindi non era computato né per i gradi per la pensione niente non hanno fatto nulla e questi erano quelli in cui era andata bene perché molti saranno processati e eliminati Witold Pilecki di cui vi ho parlato poco fa che rientra in Polonia perché aveva lasciato la moglie e i figli ma rientra con un compito e così all'apparenza spionaggio in sostanza non lo è perché lui era un ufficiale dell'esercito polacco e rispondeva al governo legittimo di Londra viene catturato processato condannato tre volte a morte con accuse lo dico all'avvocato il suo accusatore non era neppure laureato in legge la composizione della corte irregolare i reati non esistevano non aveva magari l'avvocato no no l'avvocato i testimoni a difesa non venivano ascoltati andò scusate una piccola digressione voi pensate il sistema perché noi non avendo vissuto fortunatamente in un'epoca di un regime totalitario a volte anche se ci impegniamo non riusciamo a cogliere delle particolari atmosfere o situazioni Pilecki era quello che aveva creato una rete di resistenza di 5.000 ufficiali all'interno di Auschwitz che compievano sabotaggi organizzavano evasioni e mandavano informative e riuscirono a nascondere la radio pensate una radio trasmittente ricevente bollettino da Auschwitz sotto al tavolo del medico di Auschwitz costruendo pezzo pezzo e nascondendolo lì sotto quindi lo accusano delle peggiori nefandezze e lo condannano a morte bestino che accomuna tutti coloro che avevano un passato o nell'ACA nell'armia a Craiova o nel secondo corpo armata di Anders vi dicevo e va a un certo punto il direttore della Pol Pharma di Varsavia è chiaro che cos'è era la farmacia statale un ebreo si presenta per testimoniare durante il processo a Pilecki che in una prima fase era ad ingresso con biglietti perché doveva essere esemplare la punizione della spia occidentale del fascista del collaboratore di Hitler o altro poi però quando parlava Pilecki che ribaltava chiaramente le accuse si resero conto che la cosa era imbarazzante per cui il processo andò proseguì a porte chiuse il direttore della Pol Pharma che era una persona stimata aveva quindi un ruolo importante andò lì a dire ma guardate che il capitano Pilecki stava ad Auschwitz ha fatto questo 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 e questo e testimonio il giorno dopo si presentò al posto di lavoro alla Pol Pharma e mentre andava nel suo ufficio due poliziotti dove vai nell'ufficio no no non è questo il tuo ufficio io sono il direttore della Pol Pharma non ho preso lo portarono in magazzino con la ramazza questo è il tuo ufficio capite cos'era il regime e quello che aveva fatto Pilecki che fine ha fatto risolto c'era Sirankiewicz che era il primo ministro della Polonia socialista tutto quello che aveva fatto Pilecki venne semplicemente spostato nel curriculum di Sirankiewicz che nel 1970 è diventato presidente della Repubblica popolare di Polonia la Polonia quindi era stata sovietizzata della rivolta di Varsavia non si poteva parlare se non in termini spregiativi i pazzi i fascisti i collaboratori di Hitler i serbi del Terzo Reich i nazisti i pazzi i criminali era questa questa è l'aggettivazione di quella splendida epopea che proprio oggi voi non ci credere io non mi preparo i discorsi anche mi sembrano cose strane però oggi i case della vita ho incrociato questa frase di Schopenhauer che vi devo leggere perché mi ha particolarmente colpito in relazione a questo argomento poi vi prometto che chiudo la gloria bisogna conquistarla ma l'onore basta non perderlo gli insorti di Varsavia secondo me rispecchiano perfettamente questa frase filosofica scusate se sono stato prolisso ma poi mi faccio prendere la mano da quando parlo di storia grazie grazie